Romano Dezzelino, il Comune ha predisposto un piano di disinfestazione e di prevenzione contro le zanzare e contro il virus West Nile. Interventi larvicidi su tutti i tombini e le caditoie stradali ed interventi adulticidi effettuati in caso di necessità nelle aree sensibili e di maggior aggregazione, parchi pubblici, cimiteri, centri, servizi per anziani e disabili, aree attrezzate eccetera. Per ridurre il rischio di infezione, ricordiamo, è fondamentale proteggersi dalle punture di zanzare, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo, usare repellenti cutanei, alloggiare in ambienti dotati possibilmente di impianto di condizionamento o di zanzarieri.